Volevo ringraziare innanzitutto chi mi ha invitato e questo bellissimo spazio per per l'opportunità e il tempo che sta dedicando a questo tema a cui dedico insomma la mia vita professionale ma anche la mia vita personale perché vivo a Dalmaty dove sono successe le ultime violenze. Per dare un quadro generale di background è il caso di appunto di tornare indietro, di pensare al Kazakhstan come un paese estesissimo, vittima appunto della colonizzazione zarista prima e poi del periodo sovietico dove appunto le periferie soprattutto avevano pochissima indipendenza da Mosca. Questo si è visto negli anni 80 quando Gorbaciov nominò un russo a segretario del partito comunista in Kazakhstan. Questo nell'86 generò dei moti di protesta soprattutto da parte dei studenti di Almaty che allora si chiamava Alma Atta e lì ci furono gli scontri di piazza forti. La polizia sovietica appunto represse nel sangue questi moti e questo fu un giorno abbastanza buio della storia del Kazakhstan e viene ricordato con il nome del mese in kazako che è Jeltoxan dicembre. Quindi dalle proteste di Jeltoxan do quello che ne esce vincitore è Nursultan Nazarbayev che in realtà non subito ma qualche anno dopo nell'89 dopo altre proteste stavolta nella regione di Mangistau quindi totalmente dall'altra parte del paese e una zona diciamo vicino il Caspio ha forte presenza kazaka di etnia kazaka rispetto al resto del paese che era un pochino più variegato. Lì appunto ci sono stati questi scontri e furono mandate di nuovo le forze di polizia a sedare questi mini pogrom che alcuni gruppi kazakhi avevano organizzato contro alcuni gruppi di lavoratori migranti dal resto dell'Unione Sovietica. In questa situazione di confusione Nazarbayev prende il potere e dice va bene adesso basta Kolbin questo russo che fa il segretario generale mandiamolo via assumo io la la guida diciamo di questa Repubblica Sovietica. Da lì in poi il suo potere cresce si arriva all'indipendenza il kazak sa nell'ultimo paese anche dopo la Russia a dichiarare indipendenza all'Unione Sovietica tanto che per otto giorni è l'unico rappresentante dell'Unione Sovietica e quindi questo paese si trova ad avere un presidente che prima era il segretario del partito sovietico che nei primi anni si deve confrontare con una crisi fortissima dell'economia perché negli anni 90 nei primi anni 90 il kazakstan non è ancora la potenza energetica che conosciamo adesso. Crisi del rublo, crisi in Russia che si riverbera in Kazakstan e quindi diciamo Nazarbayev una relazione poco amichevole anche con Yeltsin in Russia quindi da questo punto di vista l'unico interesse di Nazarbayev era quello di appunto tenere saldo il potere ma anche tenere insieme le varie anime del kazakstan. Due milioni di russi nel frattempo vanno via dal kazakstan e quindi c'è un problema anche demografico di scompensi demografici. Negli anni 90 e poi anche nei primi anni 2000 cominciano invece a essere firmati i primi accordi sui giacimenti di petrolio e di gas. Questi danno un influsso di denaro, di investimenti esteri che aiuta Nazarbayev a solidificare il suo potere e lo spingono appunto a diventare colui che ha le redini del paese e a mandare via tutti coloro che non erano d'accordo con questo sistema di potere. Infatti si cominciano a vedere i primi dissidenti che poi devono scappare oppure scelgono di andare via oppure scelgono di, dopo varie vicissitudini, di calare il capo e di rispettare l'autorità di Nazarbayev che a un certo punto negli anni 2000 si auto investe di cariche molto solenni, molto importanti. Alla fine degli anni 90 sposta la capitale da Almaty, che adesso si chiama Almaty, ad Akmola, che lui rinomina Astana, che è una cittadina, è una cittadina diciamo sovietica, una piccola cittadina sovietica che appunto viene ricostruita o meglio viene espansa a livello urbanistico con progetti urbanistici creati a sua immagine in somiglianza, quindi questi grandi boulevard, questi grandi statue, questi grandi grattacieli che ovviamente sono pagati con il budget kazako che è rimpinguato dai soldi dell'energia che viene esportata. Quindi tutto molto circolare sulla figura appunto di Nazarbayev che assume anche la carica di padre della patria. Questa non è semplicemente una questione formale ma è una questione che a livello costituzionale gli dà a lui e alla sua famiglia una immunità totale da qualsiasi indagine e da qualsiasi accusa, addirittura insultarlo, è un crimine. Da qui, questo è il 2010, nel 2010 cominciano i primi, dei primi moti operai che in realtà non sono i primi ma diventano sempre più forti, tra il 2010 e poi soprattutto nel 2011 nella zona di Genozen che avevo prima menzionato riguardo all'89, a Genozen che è un posto dove ci sono tanti giacimenti appunto di petrolio e di gas, i lavoratori vanno in sciopero perché le compagnie locali e le joint venture con le compagnie internazionali cominciano a stringere sulle condizioni lavorative, sui salari, tagliano i costi in sostanza e alcuni addirittura dovevano portarsi il loro personale, cioè dovevano comprare loro i guanti, le tute, i caschi. Questa cosa non sta bene a questi collettivi di lavoratori che vanno in sciopero. La conclusione dello sciopero dura otto mesi perché arriva al giorno del ventesimo anniversario, al 16 dicembre appunto del 2011, l'anniversario del ventesimo anno dell'indipendenza. A questo punto il governo decide di mettere su una delle tende celebrative, dei palchi su questa piazza dove i lavoratori ogni giorno erano scesi in piazza per otto mesi. Quando la polizia dice ai lavoratori spostatevi che qua dobbiamo festeggiare i vent'anni di indipendenza, ovviamente loro si arrabbiano, ma il confronto era appunto forte ma non violento. Poi, come è successo adesso a gennaio, sono intervenute altre forze molto più violente che hanno causato l'immediato uso della forza super violento, possiamo dire, e indiscriminato delle forze speciali e della polizia verso tutti quelli che erano in piazza, sia questi gruppetti criminali e facinorosi portati apposta forse da qualche altro gruppo di opposizione, sia dai lavoratori scioperanti che erano lì totalmente enermi e totalmente non violenti. Questo è il momento in cui, questo è uno dei momenti più neri della storia del Kazakhstan, che tristemente viene superato, adesso facciamo un grande balzo, a gennaio del 2022. Dove proteste che cominciano sempre nella stessa regione di Manghistau, dove c'è questa città, Janosen, dove c'è il capoluogo di regione Actao, che è sul Mar Caspio, queste proteste cominciano a causa dell'aumento del prezzo del GPL, che è un carburante molto diffuso lì, ma non nel resto del paese. L'aumento del prezzo di GPL, poi potremmo parlarne di più per quale motivo è aumentato, ma questo raddoppio del prezzo ha causato le prime proteste che in maniera poco usuale si sono espanse per tutto il paese nel giro di due o tre giorni. Questo ha un attimo preso di sorpresa le autorità che già al secondo giorno avevano ridotto il prezzo al prezzo originale. Quindi si dicevano, ma perché state protestando? Perché in realtà il messaggio che è passato è quello dell'insoddisfazione rispetto alla disuguaglianza e all'emarginazione sociale e politica di questa popolazione, che non ha la possibilità di scegliere attraverso elezioni libere i propri rappresentanti, non può eleggere i propri governatori di regione, ha vissuto per 30 anni sotto lo stesso leader che poi nel 2019 ha passato il testimone a un suo vicinissimo collaboratore che si chiama Kasim Jomartokaev, ex diplomatico, ex primo ministro, ex capo del senato. Quindi preso dallo stesso sistema che Nazarbayev aveva costruito. Quindi il fatto che loro non potendo avere nessuna possibilità di scelta si siano trovati a subire questa decisione del governo ha creato appunto una protesta che aveva avuto risonanza in maniera abbastanza logica in tutto il paese, perché in tutto il paese non era il prezzo del GPL a preoccuparli piuttosto che appunto l'emarginazione politica e sociale e socio-economica, anche perché siamo arrivati a due anni anche lì di pandemia, che ha causato nel mondo del lavoro soprattutto, quindi anche della capacità della società kazaka di sopravvivere, grossi problemi. Perché ci sono stati nell'estate del 2020, quindi la seconda ondata diciamo della pandemia, quando i prezzi del petrolio si era capito che i prezzi del petrolio sarebbero scesi fortemente, gli 4 su 8 milioni di popolazione attiva hanno perso il proprio lavoro. Poi lo hanno ritrovato, nel senso hanno ritrovato altre cose da fare per sfamarsi, ma prima avevano un lavoro e dopo avevano un mezzo di sopravvivenza. Quindi si passa a veramente cambiare il proprio metodo di sopravvivenza. Quindi a questo punto la struttura socio-economica del paese aveva un livello di tensione incredibile e quindi appunto non sorprende, nonostante sia una cosa senza precedenti, non sorprende che queste proteste si siano distribuite verso tutto il paese. Gli ultimi 10 secondi li uso per dire che le violenze che abbiamo visto tutti in televisione ad Almati sono frutto di altro, non sono frutto delle proteste pacifiche che c'erano state in tutto il paese, ma sono frutto di infiltrazioni criminali varie, di persone emarginate dalle periferie che sono state, alcune sono state letteralmente trasportate nel centro della città con lo scopo di distruggere, saccheggiare e vandalizzare, che serviva a qualcuno dei gruppi, probabilmente delle elite, ma non lo sappiamo di preciso, a creare caos e a giustificare anche la repressione armata, violenta, forte, che c'era già stata il 4 di gennaio, quindi quando ancora le proteste erano pacifiche. La propaganda statale ha parlato di 20.000 terroristi addestrati in Medio Oriente, non è vero. Chiudiamola così. Grazie mille, grazie, credo che sia stato un riassunto molto efficace, questo mi sento assolutamente di dirlo. In realtà tu giustamente hai fatto molto spesso riferimento a l'episodio scatenante di queste ultime proteste legato appunto al rincaro del prezzo del GPL e in realtà tu ti sei a lungo occupato proprio effettivamente di questo settore, del settore appunto energetico, fossile sostanzialmente ed effettivamente appunto dalle notizie che sui giornali, almeno in Italia, abbiamo potuto avere modo di leggere all'indomani dello scoppio delle proteste c'è stato proprio questo movimento di opinione pubblica che leggeva dei pericoli legati appunto a quello che stava succedendo in Kazakistan proprio per quanto riguarda il mercato dell'export dell'energia fossile sostanzialmente. Ricordo moltissimi articoli ad esempio e questo mi ha molto sorpresa perché è una cosa che sconoscevo totalmente circa appunto la migrazione di società di criptovaluta, di mining sostanzialmente proprio in Kazakistan perché ho scoperto aver bisogno di grandissimi quantitativi di energia che le miniere di carbone, appunto le centrali a carbone potevano effettivamente fornire laddove prima si usava farlo in Cina che però ha avviato effettivamente un processo di decarbonizzazione. Ora io credo che questo sia molto interessante nel senso che siamo da sempre abituati a conoscere di fatto il Medio Oriente come un importante bacino di esportazione, di distribuzione soprattutto di gas, di petrolio e quant'altro. Per cui ti chiederei magari qualche informazione in più, qualche circostanza, qualche dato circostanziale in più proprio su questo tipo di attività, su questo tipo appunto di sviluppo economico che negli ultimi decenni il Kazakistan ha attraversato direi. Grazie. Sì, la questione dei bitcoin è una questione che in realtà si era cominciata a trattare dall'estate perché in estate dopo il divieto cinese a produrre bitcoin e criptovalute in Cina molte di queste aziende si sono spostate in Kazakistan perché il prezzo dell'energia è molto basso anche per le imprese. Però questo non ha niente letteralmente a che vedere con la questione del GPL e mi spiego. Le criptovalute sono create da sistemi informatici, computer essenzialmente, server che lavorano questi algoritmi. Questi ovviamente prendono l'energia dell'elettricità della rete elettrica. La rete elettrica in Kazakistan è fatta del 71-72% di centrali a carbone. Le centrali a carbone hanno, la fonte primaria del carbone viene dalle regioni centrali del Kazakistan che sono a migliaia di chilometri appunto dalla regione di Mangistau dove c'è questa città di Genozen di cui parlavamo prima. Quindi da questo punto di vista sono completamente scollegate. L'altra questione è la questione del gas. Il gas che viene esportato in gran parte è il metano, il GPL è fatto col propano, se non vado errato. Quindi nella zona di Mangistau ci sono appunto queste raffinerie che si occupano della separazione dei vari gas. Quindi c'è un'industria seria energetica in queste regioni. C'è anche però un'eccessiva dipendenza da questa industria estrattiva in Kazakistan soprattutto perché la promessa della decarbonizzazione non l'abbiamo vista. Almati per esempio è famosa per l'inquinamento dell'aria perché tutto il riscaldamento urbano è di nuovo frutto di una centrale a carbone proprio vicino alla città e per sei mesi l'anno non si respira, ve lo dico così di prima mano. Non si respira, non si vedono le stelle che è una cosa molto triste perché c'è questa coltre di smog che molti attribuiscono alle automobili ma in realtà si accende esattamente quando si accendono i riscaldamenti. Quindi da questo punto di vista il mix energetico kazako è molto radicato sui combustibili fossili e la ricchezza del budget è fondata sulle esportazioni. L'esportazione soprattutto di petrolio perché il gas non è così facile da trasportare perché il gas si trasporta via gas d'otto mentre il petrolio si può trasportare via ferrovie ma anche via nave. E quindi da questo punto di vista infatti l'Italia per il Kazakistan è il primo cliente di petrolio greggio kazako. Ciò significa che ovviamente non c'è un oleodotto che parte dal Kazakistan e arriva in Italia ma l'oleodotto arriva nel Mar Nero poi le navi e i loro relativi traders commerciano e lo fanno arrivare nelle coste italiane. Ovviamente sui traders, sul ruolo dell'industria attiva italiana anche oltre che multinazionale in Kazakistan ci sono letteralmente libri sul loro ruolo appunto corrotto e nocivo all'economia stessa del Kazakistan rispetto al in realtà al beneficio che loro dicono di apportare. Vitol che è una compagnia di trading di petrolio è stata presa di mira da alcuni giornalisti in Svizzera appunto perché i loro delle problematiche appunto relative alla corruzione. Chevron che ha uno dei due più grandi giacimenti in Kazakistan che sono tra i più grandi nel mondo anche. Questo intermediario americano tra Chevron e il governo kazako è stato incriminato nel 2003 per corruzione. poi è stato rilasciato perché ha detto di lavorare per la CIA e quindi si è giustificato dicendo ma io lavoravo per il governo quindi non mi potete dire che sono corrotto. La sua multa è stata un dollaro. Eni appunto esiste in Kazakistan, è molto presente, molto forte e anche lì ci sono stati degli scandali relativi a interessi italiani in Kazakistan. Non voglio impelagarmi in queste discussioni ma immaginiamo appunto come le industrie estrative che hanno fatto di tutto in tutto il mondo abbiano fatto di tutto anche in Kazakistan. Grazie mille, grazie mille davvero Paolo. Molto interessante in realtà molte le cose che ci hai detto in questo secondo intervento poi magari spero che in un secondo momento anche più informalmente però potremo tornarci sopra. Io adesso vorrei passare invece a Maria Chiara alla quale in realtà vorrei fare una domanda più come dire forse legata all'informazione, alla comunicazione. Dicevamo inizialmente appunto all'inizio di gennaio, nella prima metà di gennaio quantomeno, le proteste in Kazakistan hanno avuto una discreta copertura anche nel mondo occidentale. In realtà all'indomani dal momento in cui le proteste sono state sedate di fatto la notizia è scomparsa completamente da tutti i giornali. A questo vorrei appunto, partendo un po' da questa riflessione che credo chiunque di noi in maniera molto come dire esperienziale può aver fatto, viene appunto da collegare invece una valutazione sulla trattazione, sulla copertura di cui godono invece le proteste in altri paesi sempre nel blocco post-sovietico. Penso banalmente alla Russia che ha una copertura totalmente diversa, però penso anche ad altri paesi, la cosiddetta rivoluzione arancione, insomma ad una serie di altre esperienze, di movimenti sociali, se così si possono definire, di altri paesi che hanno appunto sempre una copertura molto differenziale. Sicuramente, no, in realtà questa è la domanda che ti faccio, quindi assolutamente cancello questo sicuramente, però immagino che insomma nella giustificazione che si dà a questo trattamento differenziale l'elemento di reperibilità effettivamente delle informazioni, banalmente dovuto anche magari a una barriera linguistica, sia l'argomento più utilizzato, però sappiamo benissimo che la comunicazione è uno strumento politico, anzi uno dei principali strumenti politici che soprattutto le governance adottano e quindi mi piacerebbe provare a capire con te appunto come possiamo leggere questo trattamento diverso, come possiamo leggere anche il modo in cui ci vengono riportate le informazioni, proprio perché sono informazioni che per un pubblico non multilingue, banalmente diventa piuttosto difficile altrimenti andare a decostruire, insomma appunto ragionare un po' su questo. Allora vabbè innanzitutto grazie mille per l'opportunità e per l'invito, grazie a Paolo anche per il riassunto molto preciso che ha fatto, a seguito del quale appunto io mi sposto verso un argomento un po' più generale per fare un discorso piuttosto ampio. Ovviamente quando si parla di narrazione e copertura delle proteste si parte innanzitutto da quello che hai detto tu, cioè che ovviamente la copertura soprattutto a livello di informazione pubblica, di giornalismo parte, o perlomeno si spera che parte, da dei dati concreti e se i dati che abbiamo, o se le informazioni che abbiamo sono scarse, chiaramente sarà scarso anche l'apporto informativo che si può dare, come del resto è successo anche in questo caso del Kazakistan in cui è stato molto difficile reperire informazioni di prima mano per gli analisti, per i giornalisti, le giornaliste che sia che si trovavano in Kazakistan sia che si trovavano fuori. Quindi chiaramente questa è una cosa che va detta. È vero altresì però che è interessante secondo me analizzare dal nostro punto di vista, quindi dal punto di vista dei paesi occidentali che guardano cosa succede in un posto molto diverso da quello che abitiamo noi, come certe proteste vengono narrate e perché si cerca di presupporre qualche spiegazione. In questo caso ad esempio infatti si può dire che ovviamente da un lato se ne è parlato poco perché questa protesta rispetto ad altre proteste che sono state coperte, che sono state portate anche da noi in passato, penso appunto alle proteste del 2019, 2020-2021 in Russia, che hanno visto Navalny e il suo fondo anticorruzione come protagonisti, quelle ad esempio sono durate mesi. Qui abbiamo avuto un caso in cui le proteste sono state, possiamo dire anche sedate, innanzitutto dall'intervento del CSTO che è il trattato di difesa sostanzialmente della comunità degli stati indipendenti che ha visto arrivare diverse unità, 2500 unità di straniere a riportare diciamo un po' all'ordine. Quindi effettivamente abbiamo anche delle casistiche molto diverse. Tuttavia è vero che secondo me nella narrazione di queste proteste bisogna fare anche un ragionamento che non ci vede diciamo come organi neutrali, non vede la nostra posizione sia di ascoltatori, ascoltatrici di queste notizie, sia di narratrici e narratori di queste notizie come neutrale. Infatti ad esempio, come Paolo diceva prima, magari il Kazakistan viene avvertito dall'Italia, da altri paesi europei come un posto molto lontano, molto distante da noi, non solo in senso geografico ma anche in senso psicologico, mentre invece non è così, nel senso che Eni fondamentalmente è il primo paese, scusate l'Italia è il primo paese sostanzialmente importatore di Eni, è un'azienda che sostanzialmente è basata in Kazakistan, la creatività è basata in Kazakistan e quindi si può dire che noi siamo effettivamente come Stato legati a doppio filo con questo paese e chiaramente questi interessi, questo legame così stretto va a influenzare anche la narrazione di quello che succede. Infatti diciamo che queste proteste, che comunque sono molto difficili da analizzare non solo per la scarsità di informazioni ma anche per la complessità di quello che abbiamo visto, questo è stato un evento che ha radunato una quantità di persone, anche una diversità di persone senza precedenti che non è stato rivendicato da nessuno, nel senso che non c'era nessuna formazione partitica, nessun movimento che ha organizzato queste proteste che le ha rivendicate come proprie. Quindi in un certo senso chiaramente queste proteste ci sono arrivato un po' come una risposta all'aumento dei prezzi del GPL come evento strettamente circoscritto, quindi una sorta di miccia che ha acceso una rabbia popolare ai fronti di dei costi che non sono più percepiti come sostenibili. Tuttavia appunto l'aumento dei prezzi del GPL poi abbiamo visto che ha lasciato il tempo che trova come motivazione, come spinta di queste proteste, perché infatti le proteste sono più legate a una situazione generale che perdura da 30 anni di disuguaglianza e anche di mancato accesso alle ricchezze che quel paese di fatto ottiene e produce. Chiaramente narrare una cosa del genere in un contesto più ampio diventa molto difficile quando noi come come paese e più in generale come occidente perché ovviamente io ho citato il caso dell'Italia ma anche gli Stati Uniti e anche altri paesi europei sono legati in maniera analoga al Kazakistan, quindi diventa estremamente difficile portare una narrazione di questo tipo quando aziende così grandi come Eni ad esempio sono legate in maniera così stretta e quindi si rischia un po' di scadere in una narrazione che vede diciamo una vaga o una motivazione economica estremamente circoscritta che quindi non va a scomodare un conflitto di classe che affonda le sue radici in meccanismi decennali che coinvolgono non solo una classe interna al paese corrotta ma che coinvolgono anche aziende straniere che trovano la loro causa nella gestione degli investimenti diretti esteri in Kazakistan che sostanzialmente poi sono quelli che facciamo noi e quindi o una motivazione economica circoscritta oppure una vaga diciamo domanda una vaga richiesta di democrazia dove chiaramente se usiamo il termine democrazia tendenzialmente ci riferiamo alle democrazie che conosciamo noi quindi le democrazie liberali occidentali che però mi viene da dire non sono il centro del mondo da un lato ma anche dall'altro lato non sono la fonte di ispirazione di altri paesi che possiamo dire che insorgono in rivolta e questa è una cosa che secondo me bisogna ricordare non solo a livello ideologico ma anche e soprattutto per comprendere che cosa succede in un paese di cui si sa così poco come il Kazakistan erroneamente appunto perché dovremmo saperne molto di più e non per chiamata spirituale ma perché effettivamente come paese noi abbiamo degli interessi molto molto importanti e quindi è necessario anche pensare e decentrare un attimo la propria visione quando si cerca di comprendere eventi di questo tipo e infatti un esempio anche che appunto spostando un po' la nostra prospettiva allargandola possiamo fare una sorta di paragone con le proteste che hanno visto come protagonista Alexei Navalny che al momento si trova ancora in prigione e negli anni scorsi negli ultimi due anni diciamo in Russia in seguito all'arresto di Navalny dopo il suo ritorno dalla Germania dove ha ricoverato in seguito al suo avvelenamento e la Russia è stata agitata per mesi e da proteste abbastanza abbastanza numerose sicuramente cioè soprattutto a Mosca, San Pietroburgo, nei grandi centri abitati hanno raccolto, hanno radunato migliaia di persone ma che in un certo senso da noi sono anche state narrate come se possiamo dire in maniera anche piuttosto epica quindi di un paese che vuole che è alla ricerca di una società più democratica, una società più equa e che si oppone alla corruzione di un governo estremamente corrotto che in un certo senso la cui narrazione in quest'ottica è ampiamente sdoganata nel senso che queste proteste, quelle legate ad Alexei Navalny hanno avuto una copertura molto vasta anche perché sono durate di più nel tempo ma proprio a livello di narrazione anche in chiave più epica se vogliamo dire che però anche lì in un certo senso è stata molto spesso strumentalizzata in maniera molto sensazionalistica perché comunque innanzitutto ad esempio una differenza, un'altra differenza perché poi sono proteste diversissime questo paragone è solo per allargare il discorso, anzi vorrei, e qui apro e chiudo subito una parentesi quando parliamo di Russia-Asia centrale, quando parliamo di spazio post-sovietico la prima cosa da ricordare è che si tratta di paesi estremamente diversi fra di loro e estremamente complessi ognuno con la propria storia quindi questo paragone è un po' per allargare il discorso ma non vuole fare di tutta l'erba un fascio, anzi il contrario. Quindi appunto stavo dicendo un'altra differenza appunto come dicevamo prima le proteste dei giorni scorsi in Kazakistan hanno richiamato moltissime persone, moltissime persone diverse, moltissime persone da tutte le regioni del Kazakistan e lavoratrici in diversi settori industriali eccetera eccetera, mentre invece le proteste in Russia degli scorsi anni invece sono state molto più circoscritte, tendenzialmente le persone che scendevano in strada erano persone di classe media, tendenzialmente più giovani, ricordiamo che il Kazakistan è un paese estremamente giovane dove più di metà della popolazione ha meno di 35 anni se non sbaglio. La Russia è un paese giovane ma assolutamente senza paragone, la sua componente demografica è molto diversa, non è altrettanto giovane e soprattutto in Russia le proteste hanno coinvolto per lo più i grandi centri urbani come Mosca, San Pietroburgo e anche città più a est ma tuttavia chiaramente non hanno avuto la stessa risonanza nelle comunità rurali. E non c'è stato un elemento, nonostante sia stato forte il grido contro la corruzione, contro un sistema che è percepito come oppressivo, la richiesta di libertà, le cose da sottolineare sono due. Nel momento in cui si definiscono queste proteste come ispirate in un certo senso all'Occidente, alle democrazie occidentali, che è stata una cosa che si è letta abbastanza spesso, si cade in un errore perché anche Navalny di per sé definirlo filo europeista ad esempio in questo caso sarebbe un grosso errore nel senso che Navalny ha una personalità dall'orientamento politico fortemente nazionalista che anzi ha criticato l'Europa e l'Unione Europea e i paesi europei in diverse occasioni per diversi motivi. E la seconda cosa che vorrei dire inoltre è che sarebbe in questo modo cercando di narrare, di instaurare una narrazione volta sempre al popolo che insorge contro un tiranno, si tralasciano e si perdono componenti altrettanto essenziali e in molti casi anche più importanti nell'analisi di queste vicende, ad esempio la componente di classe. Il grande assente, diciamo l'elefante nella stanza, nella narrazione delle proteste in Russia che hanno coinvolto Navalny ad esempio è l'elemento di classe. Navalny in quel caso lì, per diversi motivi su cui non mi dilungo adesso perché mi sono già dilungata abbastanza, non è stato in grado di coinvolgere persone di diverse classi sociali, di diversi strati della popolazione. Come abbiamo visto prima, già solo un esempio di questa cosa è stato il fatto che le proteste hanno avuto molto più seguito nei grandi centri urbani. Ma questo ci dice anche già molto. Da un lato quello è stato il grande assente, ma in un certo senso anche per le proteste in Kazakistan è stato così perché il discorso di classe che invece è centrale è un discorso legato a diciamo le sofferenze che un popolo ha dovuto attraversare legate a motivazioni economiche che non sono l'aumento del prezzo del GPL ma sono da ricercare in decenni di amministrazione statale legata a doppio filo con paesi esteri, con altri paesi. Anche questo è stato un grande assente nella narrazione e nella copertura giornalistica e non di queste proteste che è un elemento che sicuramente per certi versi si presta meno a sensazionalismi, a una narrazione in chiave epica del popolo che insorge contro un tiranno ma nella realtà è estremamente utile come categoria per capire di cosa si sta parlando. E qua mi fermo. Grazie. Grazie mille a te Anzi. Un meritatissimo effettivamente se posso permettermi anch'io applauso. In realtà per passare a Giulio mi piacerebbe fare riferimento ad alcuni elementi che puntualizzava e che ha messo un po' sul piatto Maria Chiara. Primo tra tutti questo discorso del sensazionalismo, della ricerca comunque di una notizia che possa essere descritta, che possa essere tramandata con una forma appunto soprattutto che coglie l'aspetto emotivo, simpatetico, patetico appunto della narrativa. E un altro elemento invece è quello che menzionava all'inizio circa appunto l'intervento di 2.500 militari non kazachi per tre virgolette arginare la situazione caotica all'interno dei quali in realtà la misura superiore era data appunto dall'elemento russo. Numericamente parlando l'intervento russo è stato quello più cospicuo. Ecco vorrei proprio parlare con Giulio di Russia nel senso che noi abbiamo avuto notizia durante appunto le proteste all'inizio di gennaio di questo intervento che si è risolto in realtà nel giro di pochissimi giorni, è stato assolutamente veloce, dopodiché la Russia però non è scomparsa a differenza del Kazakistan dalle notizie mediatiche, dallo spazio mediatico, nel senso che quotidianamente oggigiorno ascoltiamo appunto telegiornali o interviste radiofoniche, leggiamo articoli che raccontano della situazione tra il confine Russia e Ucraina secondo termini molto come dire semplici da un certo punto di vista, una narrazione molto appiattita mi verrebbe da dire soprattutto anche alla luce di quello che diceva Maria Chiara mi sembra che molto si spinga sull'elemento filo occidentale se così lo si vuole definire un po' di questo spazio, di questo conflitto ma forse proprio per le motivazioni che prima descriveva Maria Chiara appiattire il livello della discussione su questo piano è assolutamente riduttivo e molto occidentale, molto situato da un certo punto di vista. Quindi ecco mi piacerebbe magari con te affrontare questo tema di come quindi in realtà venga raccontato un altro confine, di come l'attenzione mediatica sia stata così di fatto pronta a spostarsi su un altro contesto e se ci siano in realtà delle informazioni nei canali appunto delle notizie un po' diverse da quelle che vengono poi di fatto riportate in un contesto occidentale. Sì, tanto grazie appunto per l'invito. Dunque, sì il punto diciamo che colpisce magari se uno segue questa, la crisi che adesso c'è appunto sul confine tra Russia e Ucraina è la prima cosa è che a Kiev, a Mosca non c'è particolarmente la gente non si nasconde, cioè non prepara i rifugi, non c'è una particolare particolare hype su questa cosa. L'altro giorno anche Zelensky, che è il presidente ucraino, è uscito sulla stampa e nella televisione dicendo che abbiamo sempre avuto questo problema della Russia a fianco, non c'è nessuna differenza a quello che abbiamo visto negli ultimi anni, c'è sempre stata questa cosa qui, vi saluterò a fine anno nel discorso finale, complimentandomi con voi perché avrete mantenuto la calma, non vi sarete fatti coinvolgere a questa cosa. Questo succede perché comunque l'informazione in questo senso è parte di quello che sta accadendo. Io adesso magari proverei a spiegare un po' questa crisi e poi magari vorrei tornare con una domanda a Paolo invece, tornando al discorso dell'interpretazione dei fatti e di analizzare quello che sta succedendo. Dunque, prima di tutto l'informazione in questo momento è una parte della crisi, è una parte di quello che succede, nel senso che sul campo quello che succede non ha senso, nel senso che comunque quei centomila soldati che sono ammassati sul confine ucraino non sono sufficienti né a prendere con un colpo l'intera Ucraina né a sostenere una guerra a lungo termine. Quindi non esiste la possibilità che lì si apre effettivamente una guerra completa. L'unica cosa che può succedere materialmente è un'incursione, una scorreria o qualcosa come la si vuol chiamare. Però in realtà sul terreno è abbastanza strana come cosa, non ha un obiettivo che sia particolarmente chiaro. La ragione di questa cosa in realtà sta nel fatto che facendo pressione si sta parlando di altre cose. In questo caso questa crisi nasce prima col discorso del gas, soprattutto. Voi sapete che c'è un forte incremento di prezzi in Europa. Anche le bollette che paghiamo risentono, risentiranno di questa cosa. Gli spritz al bar costano di più perché l'energia costa di più anche ai bar. È una cosa molto tipatica che ho scoperto l'altro giorno. Comunque in ogni caso questa crisi esiste perché si sono sommate diverse cose. insomma c'è un discorso di transizione verde, c'è un discorso di chiusura di appunto un certo numero di centrali a carbone in Germania per esempio, l'inverno e la ripresa anche industriale post-covid che inizia ad essere piuttosto energivora. Quindi c'è una domanda di gas maggiore. L'offerta non è sufficiente. Il cremelino in questo momento non ha chiarito se è in grado di pompare più gas in Europa. È una cosa che non si capisce troppo bene. Anche perché comunque la Russia ha cominciato a esportare anche verso la Cina. Quindi in questo momento c'è questa dimensione. E c'è questa tensione. Questa tensione appunto non è chiarita. il cremelino non ha detto chiaramente non abbiamo più gas o ne abbiamo altro. Perché c'è la questione aperta del gasdotto Nord Stream che è arrivato alla fine, all'ultima autorizzazione per cominciare a operare e il cremelino probabilmente cerca di usare questa situazione per sbloccare finalmente questo gasdotto. Questo gasdotto è una cosa molto importante per una serie di ragioni a cui si oppongono diversi paesi tra cui appunto la Polonia, i Baltici insomma per varie questioni, l'Ucraina perché perderebbe il passaggio del gas attraverso il suo territorio. Quindi quello significa influenza politica, significa anche una forte componente economica dovuta al passaggio del gas. Però è anche una questione che ha molto a che fare con il mercato interno europeo, su come organizzato, su che principi debba essere organizzato. Quindi è un po' questo gasdotto è un po' un momento in cui molti nodi vengono al pettine e in questi mesi c'è stata della tensione per probabilmente giocarsi su questa tensione sui prezzi e anche sbloccare questo gasdotto. Ora mentre succedeva questa cosa e quindi la posizione sembrava favorevole a Mosca perché appunto aveva il coltello alla parte del manico, per controbilanciare questa cosa si sono visti sempre più passi dell'Ucraina che è stata probabilmente anche invitata in qualche modo però a esprimere in modo molto forte la volontà di entrare nella Nato, di passare da in cercare di entrare appunto nella Nato. Questo dall'altra parte per far pressione sulla Russia nel senso dire guardate che se rompete troppo le balle su questione del Nord Stream invece noi in cambio ci prendiamo l'Ucraina. La cosa è scalata successivamente perché appunto la Russia ha detto bene se voi fate pressione in questa cosa qui noi facciamo pressione mettendo 100.000 soldati sul confine. In questo momento esiste appunto una forte attenzione mediatica che in realtà è anche un po' la contromossa specialmente di Washington cioè di alzare tantissimo la tensione dicendo oddio oddio stanno per attaccare per alzare i termini del negoziato. E quindi vedete appunto non so gli articoli su New York Times, Washington Post in cui un sacco di gente cerca di spiegare ah Putin vuole davvero questo o appunto attaccherà o non attaccherà e tutto è centrato su questa domanda se Putin attaccherà o non attaccherà. Sul campo non gliene frega appunto abbastanza niente nessuno cioè ovviamente gliene frega molto a un certo segmento della popolazione ma non esiste un'area di guerra come magari invece era all'epoca dell'annessione della Crimea o dell'inizio della guerra nel Donbass. Questo appunto per dare un quadro. Chiuderei magari la prima parte sul fatto che questa questione della Nato è anche molto legata allo status appunto del Donbass. Sul Donbass che è questa regione orientale che ha dei separatisti filorussi sullo status di questa regione quindi sulla chiusura del conflitto sono legate la maggior parte delle sanzioni economiche sulla Russia quindi la Russia avrebbe interesse a chiudere il conflitto per avere meno sanzioni. Dall'altra parte appunto il fatto che ci sia un conflitto è anche l'ostacolo maggiore all'entrata dell'Ucraina della Nato quindi che infatti non è sul tavolo proprio perché è impossibile che uno stato con un confine aperto entri nella Nato per la banale ragione che se un paese entra nella Nato il giorno dopo viene sparato un colpo di pistola la Nato è costretta a intervenire con grandi forze militari a sostegno di questo paese quindi è infattibile però il discorso della Nato è legato appunto alla soluzione di questo conflitto che resta nel senso che entrambi i paesi poi riescono a fare pressione l'uno sull'altro aumentando la pressione in questo conflitto ogni volta che appunto c'è appunto una questione aperta come in questo caso è stata quella del gas. Una terza cosa su cui però magari non vi annoio magari se qualcuno vuole sapere di più in caso come domande però credo che anche questa crisi sarebbe anche molto interessante da leggere per anche interpretare come quali sviluppi possa avere credo sarebbe anche molto interessante guardare alla politica interna ucraina nel senso che in questo momento ci sono i due i due leader delle due maggiori aree di opposizione che sono entrambi in galera cioè agli arresti in realtà che sono gli arresti domiciliari in realtà uno è agli arresti domiciliari l'altro gli hanno ritirato il passaporto e lo seguono per la strada ma appunto c'è una situazione molto tesa e probabilmente questa questa presenza di truppe è anche fatta per premere l'opinione pubblica ucraina piuttosto che in realtà effettivamente andare dentro con con i carri armati. Questo appunto per contestualizzare l'attenzione mediatica che c'è stata su questa questione qui. Poi io in realtà volevo fare una domanda a Paolo nel senso che seguendo seguendo quello che è successo appunto in Kazakhstan io appunto mi sono occupato soprattutto di Ucraina, Russia e quella parte lì quindi quando è successa, quando è scoppiato il... sono cominciati gli eventi in Kazakhstan io ho cominciato a seguire su Twitter, quello è il primo posto in cui trovare informazioni molto spesso quando succedono casini di questo tipo e ho un po' assistito alla transumanza insomma di tutti gli esperti da Ucraina, Russia, Bielorussia eccetera che sono tutti quanti andati sul Kazakhstan proponendo un po' il loro contributo. E diciamo io quello che ho visto è... diciamo i contributi possono essere sostanzialmente su due linee uno è di relazioni internazionali la gran parte di quello che ho letto erano tutte variazioni su questo come influenzerà Putin, gli andrà a favore o contro e come andrà a favore o contro la Cina questo è quello più o meno che ho letto e vabbè insomma ci si può... ci sono anche dei motivi molto precisi per questa cosa questa sarebbe anche una questione molto interessante da disossare però vabbè alla fine ha anche un suo senso nel senso che magari c'è comunque della gente che cerca di capire se il prezzo dell'uranio deve andare su o giù e quindi ci cerca anche di capire in questo senso vabbè io in realtà comunque vengo da scienza politica quindi sono più magari sensibile a quel settore lì e ho visto appunto tutti questi esperti che conosco che seguo eccetera arrivare con la loro gigantesca cassetta degli attrezzi normalmente di stampo neoliberale perché la scienza politica negli ultimi anni ha questo approccio e specialmente poi nell'area post-sovietica è piena di gente piuttosto di destra a mio parere comunque sono arrivati con questa grande cassetta degli attrezzi che ha tre cose fondamentali dentro di solito uno è l'identity politics quindi questioni etniche eccetera e cioè io ho aperto twitter e la prima cosa che ho visto era una cartina del Kazakhstan su dove stanno i russi e dove stanno i kazaki quella cartina è molto bella non mi è servita assolutamente niente per capire quello che succedeva dopo l'ho vista all'inizio più servita la seconda cosa è le istituzioni quindi che questo in tempi di crisi poi si risolve nel fatto che che nelle dinamiche tra le elite quindi una cosa che poi appunto invece si è vista quindi capire se quello che succedeva era anche una lotta tra elite una cosa che però è arrivata dopo a quanto mi ho visto insomma mi sembra di aver capito e la terza cosa e quindi anche questa seconda spiegazione non serviva molto la terza cosa sempre dalla cassetta degli attrezzi neoliberali è la spiegazione di movimenti civici dei diritti umani in senso specialmente politico e di libertà d'impresa cioè fondamentalmente le rivoluzioni colorate di questo si tratta e una rivoluzione colorata non lo è stato questa è una cosa su cui c'è un grande consenso appunto ti accennavo tra l'altro prima parlando di questo articolo di della Erika Marat è una delle più note esperte sul Kazakhstan che ha scritto questo questo bell'articolo in cui dice non è stata assolutamente una una rivoluzione colorata per questo motivo questo 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 però non spiega ed è questo il punto non spiega cosa sia stato cosa sia successo cioè quale sia il nesso causale cosa cosa spiega quello che è che è capitato ora l'idea che mi sono fatto appunto poi da profano ribadisco perché io non mi occupo di Kazakhstan di Kazakhstan principalmente però l'idea che mi sono fatto è che una protesta partita per ragioni economiche da settori della classe operaia che è una cosa che non si sente da molto tempo abbia dato via delle proteste a cui si sono si è aggiunta la classe media delle città quindi una cosa partita dal da dai campi di petrolio e dalle periferie della città a cui si è unita una una classe media in cui dopo gli eventi hanno fatto innestare uno scontro tra elite tra diversi settori di servizi sicurezza come quello che sembra sia successo in termini di quando si è cominciato a sparare pesantemente quindi la mia domanda a Paolo è uno ti sembra che abbia senso due se secondo te è una interpretazione di di classe quindi un'interpretazione economica non solo è sensata ma se secondo te è una cosa che può in qualche modo tornare dopo nel periodo post-covid cioè questa interpretazione che negli studi russi post-sovietici non è esistita negli ultimi trent'anni perché è la cosa che viene ignorata più di tutte ora che mi sembra non ci siano veramente altre spiegazioni secondo te può tornare può essere una cosa che può tornare a essere usata come elemento centrale dell'analisi questo è il punto grazie ringrazio della domanda ma anche degli interventi precedenti che hanno spiegato molto bene tante cose ho preso appunti non stavo mandando messaggini uno degli e volevo rispondere alla domanda ma anche diciamo tirare qualche punti tirare un po' di fili in modo da magari poi parlare insieme uno per esempio dei punti che ti sei dimenticato che io ho dovuto leggere in maniera molto attenta appunto è stata che in questa grande cassetta degli attrezzi c'era anche l'islam l'islam radicale spauracchio di tutto ed è stato il motivo per il quale fu invitata la la cst o la questa questa organizzazione diciamo trainata dalla russia ma appunto ho un carissimo amico accademico filippo costa buranelli che si occupa appunto della della regione da un punto di vista regionale che che mi mi morderebbe se non dicessi che è una organizzazione internazionale e che si muove per invito quindi è stata invitata da Tokayev e non è andata nelle piazze a pacificare ma è andata a occupare determinati spazi strategici quali l'aeroporto deposititi di armi e centri logistici questo in realtà questo intervento molti io sono tra questi lo leggono come una una specie di polizia assicurativa che Tokayev il presidente ha stipulato con i suoi vicini che sono tutti contraddistinti da questa vena autoritaria come dire io vorrei prendere diciamo le redini di questo Kazakhstan dopo questa crisi voi siete d'accordo? se sì mandatemi un duemila soldati così per farlo sapere a tutto il mondo però volevo appunto tornare sulla questione della volevo fare un accenno molto rapido al fatto che non ho accennato prima perché pensavo che tutti l'abbiamo letto insomma sui giornali ma ci sono 225 morti accertati dagli scontri di piazza non solo ad Almati ma anche in altre città numero che secondo me dovremmo moltiplicare almeno per tre per avere una scala più accurata perché questi sono i numeri ufficiali questo diciamo visto che parliamo anche di vite umane che sono state prese da uno scontro che giorno 7 gennaio Tokayev annuncia essere di stato perché lui dice ho dato non specifica quando ma lui dice ho dato l'ordine all'esercito di sparare perché con i terroristi non si media sparare a vista significa che da quel momento dal momento in cui lui ha detto l'esercito il numero di morti è cambiato diciamo esponenzialmente volevo un attimo tornare velocemente ma poi appunto ne possiamo parlare alla questione di classe perché è riportandoci all'inizio al GPL l'aumento del prezzo del GPL l'aumento del prezzo del GPL è stato giustificato dal governo come una transizione da un sistema di sussidi alle tre compagnie principali che si occupavano di distribuzione di GPL a un sistema di mercato quindi di di aste elettroniche teoria trasparenti bene vendere l'idea del mercato a una popolazione che conosce bene queste tre imprese che sono molto vicine tra di loro e praticamente hanno formato un cartello è difficile non mi puoi dire che un cartello da un giorno all'altro grazie a un algoritmo di un computer diventa un libero mercato neanche diciamo a parte il fatto che aumentare il prezzo di due volte del carburante a livello sociale non è accettabile ma dovendo anche accettare quello non è non è credibile il dire adesso c'è il mercato non è credibile neanche la giustificazione di dire ah per voi il prezzo del carburante è troppo allora prendete l'autobus quello è stato un momento gravissimo di insulto in Francia sono cadute un po' di teste quando quella ha detto mangiatevi le brioche quindi da questo punto di vista si capisce la reazione popolare all'insulto oltre alla beffa diciamo del pagare il doppio e quindi questo mito del mercato che viene sposato alla grande dalle varie banche internazionali i grandi istituti finanziari tipo la banca mondiale il fondo monetario ma anche le banche di sviluppo che sono di base in Kazakhstan quindi da questo punto di vista c'è questo discorso del mercato e questo discorso del mercato è contrastato quasi esclusivamente dal lavoratore del petrolio come diceva Giulio prima i lavoratori del petrolio sono quelli tra i pochi che cominciano adesso per esempio a parlare di nazionalizzazione di alcune compagnie che è una domanda diversa rispetto alle centinaia di scioperi che abbiamo visto di cui abbiamo parlato nel nostro piccolo noi giornalisti che ci occupiamo di Kazakhstan gli accademici che ci occupiamo di Kazakhstan nel 2021 c'è stato un numero senza precedenti di scioperi nelle regioni che producono il petrolio l'anno scorso di cui si è parlato poco ovviamente nella stampa internazionale però la domanda fondamentale era salari migliori condizioni turni più umani adesso dopo le proteste ma anche dopo le proteste l'anima che invece da molti anni chiede la nazionalizzazione sta prendendo sempre più corpo e sta diventando sempre più rumorosa da questo punto di vista l'altra cosa appunto che volevo notare è appunto il fatto che l'anticorruzione come abbiamo visto anche nel contesto italiano per non andare troppo lontani è una scappatoia populista che si usa tanto sia in Russia con il caro Navalny ma anche in in Kazakhstan con altri personaggi che il cui unico messaggio politico è basta con il regime autoritario basta con la corruzione ecco quello che manca forse appunto è un un salto un discorso di classe perché questa cosa qui unisce anche la borghesia delle città di Mosca di San Pietroburgo ma anche di Almaty e di Nursultan la capitale del Kazakhstan però dal punto di vista diciamo del discorso di classe dell'esclusione è interessante vedere come forse in questo contesto dopo aver visto gli effetti della protesta pacifica e di come questa si sia distribuita grazie al fatto che alla fine tutti si sono sentiti emarginati da questo punto di vista e i sconfitti di questa di questa transizione di mercato che dal diciamo dal sistema controllato sovietico al mercato libero come è stata venduta dal presidente Natarbaev prima adesso da Tokayev che ripete sempre cari investitori esteri venite non vi preoccupate la situazione è tranquilla la nostra porta è aperta quindi da questo punto di vista non è chiaro se si riuscirà a fare una cosa del genere anche perché e qui chiudo il movimento sindacale in Kazakhstan che era molto forte diciamo negli anni 90 e i primi la prima il primo decennio degli anni 2000 è stato fortemente represso dopo i fatti di sangue del 2011 e il giorno Sen e questo causa una polarizzazione e un'atomizzazione dei collettivi di lavoratori che hanno difficoltà appunto a comunicare tra di loro e a far uscire con un'unica voce delle domande delle richieste di giustizia sociale in essenza di giustizia sociale ed economica quindi da questo punto di vista mancano le piattaforme però si è visto che nonostante questo le proteste sulle questioni socio-economiche riescono a coinvolgere tanti ci sarà un futuro di questo non lo sappiamo perché non abbiamo la storia di cristallo Allora io ringrazio davvero sentitamente di cuore ancora una volta Paolo Maria Chiara e Giulio insomma per questo interessantissimo credo affresco che ci hanno dato questa sera su quella che è la situazione in Kazakisa né più in generale sull'intera area